Sì, ciao a tutti amici di Studio Camurina, ben ritrovati. Come vedete alle mie spalle mi trovo all'Istituto Vercelli di Torino. È l'ultimo giorno di questa bellissima missione. Ho cercato di salvaguardare le emozioni dell'amore. Tutti gli incontri che ho avuto sono stato grato alla vita, all'esistenza. A un mese che manco dalla mia terra ho frequentato l'Istituto Antonelli, all'Istituto Vercelli, come prof. Emozioni, come dicevo, da salvaguardare, uniche. Volevo ringraziare tutti i prof, tutti i ragazzi che mi sono stati vicino. Ho abitato sempre in hotel in questo mese. Sono stati in tre hotel stupendi. Ostelli. Combo Hostel. L'Open 11 è Ostello Torino, vicino alla stazione Lingotto. Vi consiglio, se vi trovate qui a Torino, di frequentare anche questi ostelli. Si tratta sempre di pagare tra i 26, i 28 euro, con colazione inclusa. Colazione super, detto un siciliano. Bene, ci ritenevo a immartellare a questo momento. Un saluto da Studio Camorino a Monreale. Arrivo. Ciao. Ciao.